segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ho capito vannacci no sai quando leggi io ho letto solo i sommari diciamo di questo libro ma quando leggi quelle robe lì pensi vabbè ma allora dai sciogliamo l'esercito sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar un bar il bar italia e quindi dopo sta cosa a me mi resta una domanda una domanda sincera che vorrei fare scusa ma se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale un omosessuale è possibile anche dare del coglione un generale allora senta bersani intanto l'abbiamo sentita dire una parolaccia allora il generale vannacci ha sdoganato il diritto all'odio e lei per risponderli sdogana il turpiloquio no perché avete sentito una domanda del tutto innocente cioè se chiamare a normale un omosessuale sia un insulto a una constatazione generale pensi che sia una constatazione ma era un messaggio ai miei ma secondo lei bersani è un coglione o no vannacci perché il punto è questo sì o no no ma deve deve dirmelo lui cioè nel senso ho bisogno che lui mi dica mi dica mi dia una risposta o che me la dia un tribunale allora io però il messaggio era ai miei che voleva dire guardate che quel bar lì non è mai vuoto che non è solo vannacci e se questi vogliono sdoganare l'odio non possiamo rispondere in greco antico o in inglese o chiedendoci come si è fatto per giorni e giorni se un generale può parlare dica quel che vuole ma lo dico anch'io però in quel bar italia lì non stiamo fuori a giudicare il bar andiamoci al bar e facciamoci capire